E' affondata completamente. Con conseguente rischio di disastro ambientale. La petroliera iraniana andata in fiamme il 6 gennaio nel mar cinese orientale dopo una collisione con un mercantile. A bordo si era verificata anche una forte esplosione. La nave trasportava un carico di 136.000 tonnellate di petrolio ultraleggero e i 32 marinai a bordo. 30 iraniani e due bengalesi. Sono tutti morti, ma solo tre cadaveri sono stati finora recuperati. Muhammad Rastad, portavoce della squadra di soccorso iraniana inviata a Shanghai, ha riferito che due terzi del contenuto delle petroliera sono in mare. E' giornalisti che hanno avuto la possibilità di sorvolare la zona hanno raccontato che una chiazza di greggio si estende in mare per una decina di chilometri. Dopo l'esplosione si sono sviluppate fiamme altissime e la petroliera ha cominciato ad affondare di prua, fino a restare totalmente sommersa. Circa 151 miglia nautiche, 280 chilometri, a sud-est dal punto in cui si era verificata la collisione. Ha riferito il governo cinese. La scatola nera è stata recuperata sabato. Greenpeace ha lanciato l'allarme ambientale. Mentre secondo la State Oceanic Administration, interpellata dai media cinesi, non c'è al momento una grande minaccia ambientale all'ecosistema marino. Perce. A causa della loro volatilità, la gran parte di questi idrocarburi si dispersa nell'aria. Hanno il tanker that caught fire after a collision in East China sea has sunk. More than two dozen people remain missing peak. Twitter.com.p2k.cgkinaxinua news. Kyochlax news. 14 gennaio 2018 la petroliera. Battente bandiera panamense e di proprietà della National Iranian Tanker Company. NTC. Stava spedendo prodotti alla società sud-coreana Anha Total. Sono tutte in salvo le 21 persone a bordo della CF Crystal. La nave cinese è coinvolta nell'incidente. Il Ministero dei Trasporti cinese ha riferito che, dopo aver recuperato la scatola nera, i soccorritori avevano cercato di raggiungere le aree comuni. Ma la temperatura ha raggiunto 89 gradi e non sono riusciti ad entrare. Un totale di 13 navi 10 cinesi. Due giapponesi e una sud-coreana prendono parte all'operazione di soccorso di recupero di petrolio e spegnimento delle fiamme. Giovede scorso un gruppo di marinai iraniani aveva criticato le operazioni di salvataggio del governo cinese. Ma Pechino ha risposto dicendo che le «terribili» condizioni meteorologiche e gas tossici derivati dal petrolio in fiamme hanno ostacolato le operazioni. Zeke Grazie